Il ministro dell'economia del governo Meloni, Tal Giorgetti, era ministro dello sviluppo economico durante il governo Draghi. Molti degli esponenti dell'attuale governo Meloni erano esponenti di punta del governo Draghi. Oggi il vice ministro alla giustizia, Sisto, avvocato di Berlusconi, era sottosegretario nel governo Draghi sempre alla giustizia. E poi un'ultima cosa, perché io ho apprezzato quello che dice Della Valle rispetto all'importanza del PNRR. Ma oggi è importante, due anni fa era a cattonaggio, non mi dimentico le cose. A cattonaggio europeo, Conte chiede l'elemosina, Libero, 14 luglio 2020. Conte si è fatto fregare, Libero, 21 luglio 2020. Occhio alla fregatura, alla fine pagheremo sempre noi, Vittorio Feltri, Libero, 22 luglio 2020. Oggi Libero, direttore Sallusti, titola, grillini lavorano per far saltare il PNRR. Opposizione contro l'Italia, pur di sgambettare il governo Meloni, sabotano il piano vitale per l'economia. Oggi è diventato vitale, ieri era a cattonaggio, questa non è serietà. Oggi è diventato via Della M